Ancora nessuna decisione definitiva per i lavoratori Almaviva a rischio licenziamento, appesi ad un filo, nell'attesa del 13 aprile. Proseguono le azioni di protesta contro i tagli voluti dall'azienda, con il destino di 1670 famiglie, che verrà definito solo la prossima settimana. Previsto per quella data, lo sciopero nazionale, indetto da CISL, CGL e Wilcom, è contemporaneamente un tavolo al mese. Due iniziative che si muoveranno in parallelo per porre fine ad una combattuta, quanto sofferta, richiesta d'aiuto da parte dei lavoratori. L'annuncio è arrivato proprio dal Vice Ministro per lo Sviluppo Economico, Teresa Bellanova, che ha annunciato tramite Twitter di aver convocato una riunione sulla vertenza. Il piano da proporre all'azienda avverterebbe su un programma per smantellare le scelte di Almaviva, voluto in ambito nazionale dai sottosegretari all'Istruzione, Economia e Lavoro, Faraone, De Vincenti e Bellanova. Almaviva però non è la sola ad aver risentito dei tagli. Naviga in cattive acque è anche l'azienda che si occupava di creare nuove imprese nell'isola. Per la partecipata Sviluppo Italia Sicilia, che ha come socio unico la regione siciliana, è tempo di liquidazione. L'ex presidente dimissionario del Consiglio di Amministrazione, Carmelina Volpe, è stata nominata commissario liquidatore. La regione aveva acquisito la società nel 2008 per 10 milioni di euro e già da mesi i 75 dipendenti non hanno percepito più lo stipendio.